Ciao ragazzi, sta per cominciare l'importantissima sfida Roma-Manchester United, ma sto video lo devo fare per forza, è più forte di me. Lo devo fare perché sono arrivate le formazioni ufficiali e dopo mesi che predico che la Roma passi al modulo 4-2-3-1, quindi con il passaggio del nostro assetto difensivo con quattro difensori, finalmente Fonseca ci è arrivato. Ripeto, sono 40 anni che fico il calcio, non è un giorno di partite non viste, non viste i campionati e capire che questa squadra doveva passare con la difesa a quattro era veramente semplice. Tra l'altro è molto curioso che due giorni che Mourinho è stato annunciato come nuovo allenatore della Roma e la Roma passa con la difesa a quattro, sapete che il modulo di Mourinho è il 4-2-3-1 come del resto il modulo di Spalletti. Quindi anche Fonseca stesso cominciò con il 4-2-3-1, poi purtroppo si è fissato su questa difesa a tre che secondo me ci ha creato solo un sacco di guai. Questa sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico, Roma-Manchester, Roma in campo quindi con Mirante fra i pali, scelta obbligata vista l'indisponibilità per infortunio alla spalla di Paolo Lopez. E poi avremo questa benedetta difesa a quattro con l'olandese Kasdov a destra, il brasiliano Bruno Perez a sinistra e al centro aggiranno Ibanez e Smolling. È chiaro che un giocatore fisico come Ibanez dai piedi tuttavia ruvidi non può che giovarsi di una difesa a quattro perché chiaramente gli spazi da coprire si riducono e la fisicità viene fuori soprattutto sulle palle alte. Ben coadjuvato da un giocatore esperto e forte, oggettivamente forte come Chris Smolling, Ibanez sarà messo nelle condizioni migliori per arginare la forza fisica di Edinson Cavani. Davanti ai quattro citati si posizioneranno Cristante riportato al suo ruolo naturale, come predico anche qui da settimane se non da mesi, e Gianluca Mancini viene avanzato in questa posizione ma la posizione diciamo che sarebbe quella di Veretù, Veretù è infortunato, quindi giocheranno Mancini e Cristante. Quattro due, i tre saranno da destra a sinistra Pedro, Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan, prima punta Edingeco. Io, non lo so, in un certo senso è anche una mia vittoria, una piccola vittoria, una piccola soddisfazione, sono mesi che sto dicendo questa cosa, era così chiaro. Vedrete che questa sera la Roma giocherà una grande partita, lo dico prima, l'ho voluto fare apposta questo video, prima della partita, e vedrete che con questo modulo ci renderemo conto che la difesa sarebbe stata molto più protetta, non avemmo mai preso i gol a Manchester, era opportuno passare con questo modulo, poi soprattutto dopo il primo tempo che stavamo vincendo, invece ci siamo esposti alle scorribbande dei vari Bruno Perez, Rashford, Granvold e Cavani, che sono giocatori che negli spazi larghi, aperti, ti distruggono, ti distruggono sia fisicamente che in velocità e quindi anche a livello tecnico, e Bruno Fernandes è un giocatore che tecnicamente sta su alti livelli, ma anche Cavani è un giocatore che basta vedere l'assist del primo gol di Manchester, provateci voi a chiudere quel triangolo in quella maniera sulla palla di Pogba, Cavani di interno sinistro uscendo dall'area di prima riesce a mandare la palla verso l'esterna sinistra dove subentra Bruno Fernandes che scavalca Paolo Lopez, c'era ancora Paolo Lopez in porta, vi posso garantire che è una giocata tecnicamente con un coefficiente di difficoltà altissimo perché quella palla deve veramente cambiare traiettoria, ci vuole una sensibilità di piede e anche molta forza per fare perno sulla gamba d'appoggio, una grandissima giocata, quindi ripeto la notizia è che Paolo Fonseca si converte tardivamente al 4-2-3-1 e ripeto stasera vedremo una grande Roma ma ci rivedremo dopo la partita e vedrete che quello che sto dicendo purtroppo è tardi, probabilmente sarà tardi, si rivederà esatto, a dopo, buona Roma a tutti!